Ciao ragazzi, seguitemi nel mondo Beretta. Il mondo Beretta è un mondo che abbraccia tutti i settori, dal tattico, dalla caccia, dallo sport, dal tempo libero, il lifestyle, l'abbigliamento, diciamo che c'è un po' di tutto, è un pacchetto completo a 360 gradi per tutti gli utilizzatori del prodotto. Venite. Tutta la parte tattica, la parte tattica ha materiali di altissima qualità, super testati, adatti a tutto, tessuti tecnici molto resistenti per gli operatori e gli utilizzatori più esigenti. Non parliamo soltanto di operatori, ma di semplici amatori del poligono, di corsi e quant'altro. Tutto per lavorare con abbigliamento tecnico che rispetta degli elevati standard di produzione. La parte tattica, come potete vedere alle mie spalle, è grande sia l'arma lunga, l'arma corta, il striker, il sistema di azioni mista, in più abbiamo anche i bolt action da distanza. Inoltre qua, come vedete, ci sono tutte le novità del momento. Quest'anno ci sarà come novità anche la barretta 80X, grande rivisitazione in 9 corto. Nuova uscita, la PX Combat, in più c'è la PX A1 Compact. Vieni. Inoltre per portare i vostri prodotti, qua abbiamo tutta la parte, tutto il settore tattico, abbiamo tutta la zaineria modulare di altissima qualità, range bag, zaini ad alta capacità, in più c'è tutta quanta la parte EDC, in più tutta la parte zaineria tattica. Tutti i prodotti di altissime qualità, scomparti per mettere tutto ciò che ci serve per andare in poligono, anche per trascorrere una giornata fuori. Qua c'è il grande Luca. Andiamo a vedere se la cosa spazia. Settore sportivo che partiamo con tutta la parte shotgun, competizioni, tutto ciò che riguarda il tiro dinamico nella parte shotgun. Inoltre abbiamo 92X Performance specifica per il DPA, per la categoria DPA. Abbiamo sempre la 92X Performance specifica per la categoria Production. E inoltre abbiamo la 92X Performance per la categoria Production Optic. Quindi tutto il settore sportivo a 360 gradi. Ovviamente parliamo sempre di meccanica serie 90, super affidabile, l'abbiamo vista in tutte le parti, testata in teatri operativi, usata dalle polizie del mondo, oltre più con l'esercito americano ce l'ha avuta a 30 anni, quindi testata, 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 testata. Vediamo la parte alta qualità. Vediamo la prossima.